Rapidità e per forza di cose molta esperienza. A Feltre, un nuovo focolaio di Covid-19 è stato individuato e circoscritto velocemente dal Dipartimento di Prevenzione degli Ustolomiti a seguito di due positività accertate tra i dipendenti dell'Eurobrico, che è stato chiuso a scopo precauzionale nel weekend ma che dopo i controlli dello Spisa, che non hanno evidenziato situazioni di rischio, potrà riaprire. Abbiamo studiato attentamente i contatti stretti di questi due operatori, i risultati positivi e abbiamo eseguito una prima serie di tamponi seguita poi da una seconda serie. La prima serie ha dimostrato quattro soggetti contatti stretti dei primi due casi a loro volta positivi, per un totale quindi di sei positività. Queste sei persone sono due asintomatiche e quattro con una sintomatologia lieve moderata. Un'altra attività economica di Feltre è stata oggetto di voci di una chiusura forzata. Sono circolate notizie su un'altra struttura commerciale sempre di Feltre. Una dipendente faceva parte del gruppo dei contatti di cui ho parlato poco fa, quindi è risultata positiva, ma sia il sopralluogo dello Spisa sia le modalità di gestione di questa seconda struttura non hanno determinato la necessità di provvedimenti restrittivi. In pochi giorni il Dipartimento è riuscito a fornire risposte a tutte le parti in gioco. Questo è ciò a cui siamo chiamati come Dipartimento di Prevenzione, come servizi del Dipartimento, in questa fase nuova, una fase di coda epidemica. Oggi abbiamo numeri molto contenuti con l'emergenza non solo da noi, un po' in tutta Italia, di questi piccoli focolai epidemici per i quali è importantissimo essere rapidi nell'individuare le persone coinvolte o potenzialmente coinvolte.